Un rinvio non sembrerebbe neanche il peggiore dei risultati ma nel caso di Almaviva può esserlo. Nelle trattative per evitare quasi 3.000 licenziamenti 1670 solo a Palermo si deve tenere sempre presente la data delle 5 giugno. Senza un accordo per quel giorno l'azienda potrà inviare le lettere di licenziamento e tra una settimana scadranno anche i contratti di solidarietà. L'incontro al ministero che avrebbe potuto essere decisivo si è concluso dunque senza risultati. L'azienda non sarebbe in grado neanche di accogliere l'ipotesi degli ammortizzatori sociali per cercare di guadagnare tempo e risanare così i conti. La proposta era quella di estendere i contratti di solidarietà per sei mesi. A questi aggiungerne poi altri 12 di cassa integrazione e per un altro anno e mezzo ancora ammortizzatori sociali. In totale dunque coprire tre anni nei quali il governo dovrebbe intervenire per affrontare nodi più spinosi legati al settore dei call center dal massimo ribasso alle delocalizzazioni. Ma secondo fonti aziendali riportate dall'agenzia Anz, Almaviva non sarebbe neanche in grado di affrontare una prospettiva simile con l'attuale situazione finanziaria che fa registrare perdite per un milione e mezzo di euro al mese. Mancano dunque le basi per arrivare a un accordo. Una nuova riunione al ministero sarà convocata a breve ma il 5 giugno è sempre più vicino.